Vediamo l'esperimento sulla rifrazione dei raggi di luce con il disco di Hutt. Questo è il disco di Hutt, un boniometro essenzialmente, un proiettore che collegato ad un alimentatore a bassa tensione si accende e proietta un raggio di luce attraverso questo sistema di lenti che servono solo a focalizzare questa raggi di luce e poi attraverso questa fenditura originale, una fessura che servono qui, in modo che venga fuori poi un raggio di luce rettilineo. Vai, passa.